Tre abitazioni all'interno del campo nomadi di via Quornia a Torino erano state realizzate sul terreno agricolo senza alcuna autorizzazione urbanistica e quanto accertato ieri dei carabinieri del comando provinciale di Torino in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale. I militari dell'arma hanno così denunciato sette persone e hanno sottoposto a sequestro tra abitazioni abusive. La successiva perquisizione dei carabinieri della stazione di Leny ha altresì fatto luce su una serie di furti avvenuti nei giorni scorsi ai danni di un noto supermercato di Volpiano. E' stata infatti ritrovata la refurtiva del valore complessivo di 1000 euro che è costata la denuncia per recettazione a 4 delle 7 persone già denunciate per abusivismo edilizia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!